Eh sì ragazzi, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, eh sicparade, eh sicparade, eh sicparade, allora, 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 prima di iniziare ci tengo insomma a sottolineare, a dirvi grazie, grazie per tutto l'entusiasmo che ci state mettendo seguendo questa serie giornalmente, sapete com'è, quando voi ci mettete entusiasmo io ricambio con entusiasmo, quindi eccoci, ecco il sicparade, oddio, ecco il sicparade giornaliere, vi dico anche che siamo a 67.633 iscritti, arriviamo a 67.650 iscritti, quindi non è che vi costa chissà cosa, siamo lì lì, e oggi vi porto il doppio appuntamento con il calciomercato, quindi mi raccomando, sintonizzati perché vi voglio carichi. Detto questo, arriviamo a noi, perché oggi, raga, c'è veramente tanta, 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 tanta carne al fuoco, quando dico tanta intendo proprio tanta, partendo dal Milan. Oggi partiamo, boom, col botto, con il Milan, oggi, raga, partiamo con il Milan. Posizione numero 10, il Milan, innanzitutto perché c'è un giocatore che se ne va, un giocatore che potrebbe arrivare, e un giocatore che invece se ne era parlato, ma se ne andrà un'altra squadra. Partiamo da quest'ultimo, e cioè Daniuma. Se era parlato di Daniuma Milan, se era parlato fortemente di Daniuma Milan, il Milan già nello scorso campionato aveva provato a prendere Daniuma, eccetera, eccetera, alla fine pare che se ne andrà. Infatti ha giocato all'Everton, era di proprietà del Villareal, però andrà a giocare al Lyon, ragazzi. Quindi il Milan ne parla l'equip, il Milan deve ufficialmente dire addio a Daniuma a questo obiettivo, che poteva essere molto molto interessante, ma invece non lo prenderà. Chi invece andrà via dal Milan, come vi dicevo prima, è Rade Kronic. Io vorrei delle delucidazioni da voi. Nel senso, io senza cattiveria ricordo che nella prima parte di stagione, Rade Kronic era un titolarissimo del Milan e dava una grossa mano. All'improvviso è diventato fuori dal progetto. Ora, io capisco che se dobbiamo parlare di Kronic come titolare, posso essere anche il primo a dirvi no. Cioè, non ci siamo. Però il Milan titolare ce li ha. Cioè, c'ha Love2Chic, c'ha Reinders, c'ha Musa, c'ha Benazer. Comunque volendo c'ha anche Pobegad lì. Poi difficilmente il Milan andrà a prendere un centrale di centrocampo tipo Lewis Ferguson, poi ne parliamo. Difficilmente ci andrà. Quindi, pensare che il Milan vada adesso a investire su un centrocampista mi sembra folle. Quindi io se avessi potuto tenermi Kronic me lo sarei tenuto. Invece Furlani gli ha detto, facciamo un grosso in bocca al lupo a Kronic, prendono 5 milioni di euro, so soldi, è vero, però comunque per tenere una rosa lunga io Kronic me lo sarei tenuto. Intanto il Milan, secondo calciomercato.it, valuta un altro profilo. E valuta il profilo di Nian Zhu. È un nuovo nome, non se ne era praticamente mai parlato. Tanguy Nian Zhu. È un classe 2002, è un ragazzino, che vi ricorderete aveva già dal Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco soprattutto, forse ve lo ricorderete proprio al Bayern Monaco, adesso è al Siviglia. E il Milan lo sta monitorando perché? Perché è un giocatore completo. Cioè è un giocatore che ti può giocare difensore centrale, tra l'altro sa giocare sia a 3 che a 4, ma ormai questa è una caratteristica di ogni difensore moderno, ma fa anche il mediano, gioca anche davanti alla difesa, è bravo a smistare i palloni. Quindi se c'è questa possibilità, beh benvenga, no? E quindi eccoci che si parla di Nian Zhu. Benvenga, tra l'altro si è parlato tanto di calcio francese, si è parlato di calcio francese per quanto riguarda il Lione che sta cercando di prendere da Neuma, anzi che prenderà da Neuma, si è parlato di Paris Saint-Germain con Nian Zhu e continua a parlare di Paris Saint-Germain perché il Paris Saint-Germain ha preso Sacha Boe. Non so se avete presente chi è Boe, è il terzino del Galatasaray, l'ex terzino del Galatasaray, sul quale la Juve e l'Inter avevano messo gli occhi, era un giocatore di quelli che insomma se ci fosse stata la possibilità avrebbero provato a prenderlo, eppure il Paris Saint-Germain è arrivato e ha detto No, fermi tutti, 20 milioni di euro, boom, li ha messi sul piatto e se li ha portato a casa. È un giocatore di cui parleremo poi, tipo stile Nuno Mendes, no? Era già abbastanza conosciuto ma poi prima del Paris Saint-Germain non era questo Nuno Mendes, quando è arrivato al Paris Saint-Germain se ne è iniziato a parlare, ne parleremo. Non è che si parla di Inter piuttosto che di Juve beffate, cioè alla fine avevano solamente chiesto, avevano semplicemente sondato il terreno. Però comunque va valutato per quello che è, quindi Boy se ne va al Paris Saint-Germain. A proposito di giocatori, anzi abbiamo parlato di un giocatore che poteva arrivare in Italia parliamo di un giocatore che c'è stato in Italia, alla Roma tra l'altro, alla posizione numero 8, ovvero Borca Majoral che sta segnando con una continuità disarmante con la maglia del Getafe in Spagna segna veramente a ogni partita e è diventato un uomo mercato all'improvviso. Ce l'aspettavamo? Sì, segnava tanto pure a Roma, non è una novità, solo che Murigno l'ha vista e ha detto tu, amico mio, sei una pippa, vattene! E l'abbiamo venduto, tra l'altro quando è arrivato Murigno non l'ha mai fatto giocare. E ora il San sta parlando appunto di Borca Majoral in ottica Arsenal. Pare proprio che l'Arsenal abbia messo gli occhi su Majoral e che lo voglia prendere per fargli fare la punta titolare visti i problemi che sta vivendo in attacco l'Arsenal e che sta perdendo diverse partite come al solito l'Arsenal ha quei momenti in cui vince tutte le partite, poi ne perde 5 una pressa all'altra, poi ricomincia a vincere insomma, ormai lo conosciamo. Il Getafe però, visto che in mano c'è un giocatore fortissimo al momento sta chiedendo una cifra enorme, infatti l'Arsenal ha chiesto, ha offerto 25 milioni di euro e il Getafe ha detto no, assolutamente no, rifiuto, cioè non è che ha ritratto da rifiutato e ha detto se io mi devo privare di Borca Majoral ne voglio almeno 45. Ecco, questo significa fare scouting vuol dire prendere giovani, vuol dire crescere i propri giocatori, cosa che la Roma non sta facendo e quindi non ha la possibilità di chiedere soldi per questi calciatori e quindi bene così questo va via per 50 milioni o comunque le offerte sono quelle lì, mentre noi invece stiamo ancora con le pezze nel culo. Detto questo, non escluso dal discorso delle pezze anche il Verona che giorno dopo giorno ti la vende tutti i giocatori, adesso pare che possa vendere anche Doig infatti il Torino si è interessato al giocatore, il Torino ne ha offerti 5 di milioni di euro per Doig il Verona dice guarda con 6 milioni e mezzo te lo do, io lo valuto 6 milioni e mezzo di questo ne parla tutto mercato web. In questo momento pare comunque che il Torino non ha grande voglia di arrivare a quella cifra lì perché sa che il Verona ha la vendita facile cioè se c'ha possibilità il Verona ragazzi sta cedendo proprio do che do e do che do però d'altra parte il Verona dice guarda io le mie pretese non le abbasso quindi se vuoi insomma che ti prendi il giocatore, io il giocatore te lo do 6 milioni e mezzo altrimenti niente da fare, io credo che il Verona retrocederà più faccio questo sick parade più sono certo che il Verona retrocederà ragazzi sta smantellando, ha proprio capito che va giù ha capito che va giù e avendo capito che va giù un po' come ha fatto lo Spezia l'anno scorso che ha cominciato, poi alla fine non ce l'ha fatta però ha provato disparamente a prendere Shomurodov perché sapeva che si andava giù tutti i giocatori che poteva vendere a tot soldi avrebbe fatto la metà della metà però ad esempio Kivior ha avuto la possibilità, l'ha venduto subito ecco il Verona sta facendo quello, sta a fare più soldi possibili perché ha il forte sentore che alla fine della fiera retrocederà detto questo il Verona vende, vende, vende intanto alla posizione numero 6 ecco una vecchia conoscenza mia soprattutto Matic ragazzi, credo sia il giocatore l'ho scritto oggi, l'ho commentato su Instagram credo sia il giocatore meno professionale che abbia mai conosciuto vi ricordate quando si presentò a Roma e disse voglio andare via, punto, stop, ciao ok adesso ha detto la stessa cosa a Ren non si è più presentato dagli allenamenti, è sparito ha detto me ne voglio andare, me ne vado all'improvviso, dal giorno alla notte e ha detto che non è riuscito nella vita, nella vita privata a farla andare di pari passo con la vita da calciatore che non è riuscito in tre giorni a far iscrivere i suoi figli a scuola nella scuola mondiale ma non me ne frega un cazzo cioè con tutto il rispetto del mondo ognuno ha i propri problemi non è che mia madre non si presenta al lavoro perché non è riuscita a iscrivere il nipote il figlio di mia sorella a scuola, nella scuola mondiale quelli dicono a me che cazzo me ne frega ma io ti stipendio, ma io ti pago in quanto stipendio lo tu vieni al lavoro punta e basse e te stai zitto poi se te ne vuoi andare te ne vai ma te ne vai alle mie condizioni perché hai un contratto punto e stop per me questa cosa qua non ha alcun senso Matic per me resta uno dei calciatori meno professionali che io abbia mai conosciuto nella storia poi a Roma ha fatto benissimo ma è assolutamente antiprofessionale è assolutamente antiprofessionale e alla posizione numero 5 un altro giocatore che un pochino era stato poco professionale in estate ovvero Bulaie Dia che era sparito poi è tornato eccetera eccetera adesso pare che possa cambiare casacca attenzione perché? perché Bulaie Dia potrebbe andare alla Fiorentina in cambio di Nzola visto che alla Fiorentina Nzola non ha convinto appieno si starebbe pensando appunto di fare uno scambio che potrebbe piacere a tutti quanti secondo Sky Sport e secondo me sarebbe molto buono e al momento si parla semplicemente di uno scambio di prestiti e poi si valuteranno le situazioni sebbene io sono sempre molto tifoso del ok scambio di prestiti ma metterete diritti di riscatto perché se poi il giocatore vi piace non ve lo potete tenere oppure non potete dare la stessa valutazione a due giocatori che avranno sicuramente due vite diverse nei nuovi club però per me è una mossa che piacerebbe a tutti quanti e vi spiego perché è perché Bulaie Dia alla Sala Ritana non si trova bene un po' come avevo detto di Mazzocchi che è andato al Napoli e aveva bisogno di cambiare aria meglio avere un giocatore che lotta su ogni pallone è più scarso rispetto a uno più forte che però vuole cambiare aria e lo stesso per Bulaie Dia Anzola a Firenze non sta facendo bene e andare in una squadra un po' più piccola in una dimensione più piccola come quella della Sala Ritana comunque è ottima però un po' più piccola come è stato al tempo per lo Spezia potrebbe fargli molto molto bene Anzola quindi personalmente questa è una cosa che io valuterei nel modo in cui appunto ve lo sto dicendo e per me sarebbe un vantaggio un po' per tutti quanti sarebbe un vantaggio per la Fiorentina sarebbe un vantaggio per la Sala Ritana e poi volete mettere la Fiorentina che prende Bulaie Dia ecco questo sarebbe secondo me un colpo davvero davvero bello per la Fiorentina anche per le tre competizioni che sta affrontando visto che è ai ottavi di Conference League è quarta in campionata in Serie A ed è in semifinale di Coppa Italia una stagione clamorosa quella che sta facendo Vincenzo Italiano un po' meno clamorosa la sta facendo la Lazio di cui parliamo alla posizione numero 4 anche se poi si è rimessa in careggiata perché la Lazio ha passato un primo periodo in cui era quasi in zona retrocessione adesso comunque ha tre punti dalla Champions è agli ottavi di Champions è in semifinale di Coppa Italia quindi tutto sommato si è ripresa molto e continua a lavorare per il centrocampo la Lazio adesso il nome in voga è quello di Neuhaus Neuhaus perché Neuhaus credo si pronunci Neuhaus il centrocampista Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach e pare appunto che Lotito starebbe cercando Lotito come Lazio starebbe cercando di capire come arrivare a prendere il calciatore ne parla il Corriere dello Sport e parla appunto del fatto che l'idea è quella di mettere un prestito con diritto di riscatto dall'altra parte Gladbach dice allora io sono anche disposto a dartelo però se te lo do non te lo do come un giocattolo che tu lo prendi ce l'hai fino a che ti piace e poi basta se te lo prendi te lo prendi quindi facciamo un prestito ok perché non hai soldi anche se poi ce l'hai i soldi ma magari non hai soldi per darmeli adesso ma deve esserci l'obbligo di riscatto e l'obbligo di riscatto lo vorrebbero fissato tra i 12 e i 15 milioni di euro ora la Lazio dovrà capire se quei soldi li vuole sborzare perché la Lazio comunque in estate ha investito per prendere Rovella ha preso Guendouzi ha preso Kamada Kamada che poi Kamada non aveva diciamo richiesto soldi ma commissioni enormi Guendouzi l'hai preso l'hai pagato Rovella è un altro giocatore su cui hai speso e hai investito poi comunque a centrocampo tu c'hai Luis Alberto c'hai Cataldi c'hai Vesino il centrocampo ce l'hai lungo quindi andare a prendere anche Noiaus che per me è molto molto forte la Lazio farebbe un colpaccio significa comunque investire altri soldi far girare altri soldi che tu comunque bene o male hai già speso in estate non ha speso soldi in estate invece la Juventus tra l'altro mi sono dimenticato una cosa da dirvi che sul giocatore su Noiaus secondo il Corriere dello Sport ci sarebbero anche il Napoli e il Siviglia quindi vediamo un attimo quello che succede perché quando c'è concorrenza sul Napoli dubito sul Siviglia magari un po' di più quando c'è concorrenza è più difficile andare a chiudere un affare rispetto che quando appunto sei libero vi dicevo non ha speso invece in estate in estate la Juventus che però adesso sembra debba spendere voglia spendere innanzitutto a centrocampo c'è un giocatore per cui io Simone io Sikolf per la mia Roma farei follie che in realtà ha chiamato la Juventus l'ha chiamato il suo agente ovvero Coopminer Coopminer ha parlato l'agente di Coopminer ha parlato e ha detto per ora gli piace davvero giocare e vivere in Italia ma non si sa mai cosa porterà il futuro so che è molto stimato dalla Juventus congiunto li parlai già quando giocava ancora nella sed Alkmar ultimamente però non ci sono stati contatti prima devono parlarsi i club anche perché di regolamento nonostante non si faccia più realisticamente prima dovrebbero parlarsi i club quindi questa cosa è fattuale però per me Coopminer che comunque è un colpo di cui si parlerà in estate perché l'Atalanta 40, 45, 50 milioni te li chiede però se riesci a prendere Coopminer per me questo ragazzi l'olandese è un centrocampista fortissimo fortissimo che fa la differenza però la Juventus è anche su altri due giocatori uno forte uno un po' cioè uno uno già affermato uno un po' meno affermato il primo sta facendo molto bene al Bologna ed è Luis Ferguson avevo detto quando vi parlavo del Milan che avrei parlato di Luis Ferguson eccoci qua pare che la Juventus stia provando a capire se c'è margine per lavorare su Ferguson che è tutto forché un colpo low cost visto che il Bologna chiede dai 20 ai 25 milioni di euro è un ottimo calciatore certo che se si riuscisse ad avvicinare la cifra che chiede l'Atalanta per Coopminer a quella di Ferguson io mi prendo Coopminer che lo vedo più avanti però anche Ferguson per me è un gran colpo per me anche Ferguson sarebbe veramente un ottimo colpo e l'altro nome invece questo sicuramente un po' più low cost questo si low budget è Frendrup Morten Frendrup del Genoa che in mezzo al campo potrebbe far comodo per allungare il brodo considerando che la Juventus si c'ha quei tre c'ha Rabiot c'ha Locatelli c'ha McKennie ma poi gli altri se li deve inventare con Pogba e Fagioli squalificati c'ha I Miretti però stai veramente contato quindi a centrocampo la Juventus qualcosa potrebbe farlo potrebbe fare qualcosa anche l'Inter nella posizione numero 2 ecco qua spunta un nuovo nome per l'Inter non è la notizia più importante del giorno anche se poi forse è la notizia che metterò nel titolo questo nome che in realtà era già sul taccuino di Milan e Juventus secondo Fut Mercato è Facundo Medina ragazzi Facundo Medina piace anche all'Inter poi sapete benissimo che quando c'è un argentino che sta esplodendo che gira l'Inter ci si getta a capofitto quindi questo è il caso di Facundo Medina che potrebbe andare all'Inter e in questo momento in Argentina Facundo Medina viene valutato 20 milioni di euro vi posso dire io so che sono tanti soldi so anche che l'Inter dietro sta a me sai discretamente bene ha preso Pavard c'ha De Frij c'ha Bastoni c'ha Bissek senza contare appunto Acerbi e Darmian che sono due over però sono super titolari però comunque Medina per me poi se l'avete visto un minimo giocare se gli avete dato un attimo di possibilità è uno di quei giocatori ragazzi che porca vacca porca vacca cioè è uno di quei giocatori che se arriva in Italia all'Inter fa già il titolare fa già il titolare se l'Inter riesce a prendere Medina a giugno avendo Bastoni avendo Pavard e avendo Bissek ora non voglio dire che vince i prossimi dieci scudetti perché già tocca capire se vince questo cioè i campionati sono difficili da vincere e tutto quanto però difensivamente parlando permettetemi di dire che così facendo per me l'Inter sarebbe già a posto cioè per me l'idea dell'Inter è che l'Inter sarebbe già a posto così facendo per la difesa per i prossimi anni poi molto cambierà molto dipenderà ma Bissek piace tanto Pavard è fortissimo Bastoni che ve lo dica a fare prendi anche Medina Medina ve lo dico già è titolare cioè Medina lo prendi già è titolare 20 milioni certo gli spende 20 milioni ma è uno di quelli che prendi ora non voglio scomodare paragoni di fenomeni però prendi tipo Tiago Silva al tempo che arrivò dal Brasile se non sbaglio dalla Fluminense vado un po' a memoria e comunque tutti dicevano ma chi è questo come fai a prendere un giocatore dal Brasile e pensare sia titolare era già titolare ma già si sapeva Medina sarebbe Facundo Medina Facundo Medina ragazzi sarebbe sarebbe lo stesso Facundo Medina ragazzi non ci sarebbero alcuna differenza con il discorso che vi ho fatto sarebbe già super titolare nonostante comunque l'andresti a prendere dal Racing che poi è quello che ha fatto con Lautaro Martinez e alla posizione numero 1 per concludere attenzione perché il Chelsea punta tutto su Victor Osimane infatti il Daily Mail parla del Chelsea che lo ha messo come priorità sono tastrano che il Chelsea voglia spendere un sacco di soldi per un giocatore qualunque no qualunque non qualunque perché Osimane è un giocatore qualunque cioè un giocatore boom tanti soldi tanti soldi allora a parte che a Napoli si sta vivendo una situazione non semplicissima avete visto Kvaraschelia Osimane uno che dà contro all'altro uno che insulta quell'altro una situazione veramente assurda però c'è ricordiamo è presente una clausola registrazione nel contratto di Victor Osimane pari a 120 120 milioni di euro che comunque so tanti però non sono abbastanza secondo me per allontanare le big quelle clausole si mettono perché ovviamente poi il giocatore te le chiede quindi le metti però però se il Chelsea vuole prenderlo che c'ha problemi a spendere 120 milioni il Chelsea che ha problemi a spendere 120 milioni per me non ce li ha i problemi il Chelsea a spendere 120 milioni quindi se vuole farlo lo fa e sembra che in estate il Chelsea possa realisticamente andare su Osimane hanno stato già una barca di soldi per ogni attaccante sulla terra proprio che respiri e che e che si faccia vedere ecco Osimane potrebbe essere l'ennesimo grande colpo io penso che proprio per la situazione che si sta vivendo forse è meglio che Osimane possa partire a giugno anche perché ok magari 120 sono un po' pochi potresti farne anche 150 ma se ti permettono di rinforzarti enormemente torni immediatamente a competere per lo scudetto prendendo magari Conte quindi io penso questa cosa qua però il mio punto di vista e ora adesso tocca a voi eh sì ragazzi eh sì eh sì eh sì eh sì ecparade ecparade fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimo mi piace bucciola all'alene come sempre ce l'ha un prossimo video